... Farà un breve critic per capire, come dire, forse lo Stato o la maturità delle esperienze degli attori che sono stati invitati qui a Bari e tenterà di costruire un profilo anche generale, collettivo, di tutti gli attori che sono stati invitati. Pertanto io inizierei con Flavio De Girolamo che era in programma ieri e per questioni di organizzazione abbiamo preferito spostare ad oggi. Grazie. Grazie. Buongiorno. Ringrazio l'organizzazione per avermi invitata, mi sento un po' a disagio, devo essere sincera, perché dopo la bellissima giornata di ieri presentare la mia esperienza, non lo so, la mia è molto piccola, però è piena di ottimismo, come dicevo prima, quindi sono carica. Cercherò di tenermi nei venti minuti che mi sono stati chiesti, innanzitutto io vorrei rifarmi un po' a quello che Alessandro diceva ieri mattina, si parlava della galassia di gruppi e lo Stem Found è proprio nella costellazione delle piccole associazioni che tentano di occuparsi del tema dell'abbandono in tutti i vari suoi aspetti, quindi è una piccolissima realtà che opera a Viterbo e opera ad una scala molto minuta, una scala minuta non legata soprattutto alla scala dell'intervento in sé per sé, ma quanto, proprio come dicevo prima, alla giovinezza dell'esperienza. Siamo nati lo scorso autunno e quindi adesso vi spiegherò un po' quello che abbiamo fatto durante quest'anno. Questa è lo Stem Found, siamo quattro ragazzi, due storiche dell'arte, Stefania e Novella e un grafico, Andrea e io, che sono una dottoranda in pianificazione urbana e territoriale alla Sepienza di Roma, alla Facoltà di Architettura. Lo Stem Found nasce come un'esperienza, nasce da alcune nostre chiacchierate, chiacchierate molto informali, nel fine settimana di fronte a un bicchiere di vino si parlava del tema del paesaggio, dell'importanza dell'affrontare il tema dell'abbandono da diversi punti di vista e ci siamo resi conto che nonostante le diverse professionalità avevamo un obiettivo comune. È proprio per questo che abbiamo deciso di iniziare a fare qualcosa insieme. Lo Stem Found è un progetto di Avantgarden, Avantgarden è un'associazione culturale nata diversi anni fa che si occupava di paesaggio e in particolare di giardini storici. Lo Stem Found è nato, come dicevo, nell'autunno 2012 e il nome rappresenta un po' la visione della nostra città. Riprendendo anche un po' il tema della mia tesi di dottorato, io mi occupo di una ricerca sulla temporaneità come pratica di rigenerazione di quelle che ho chiamato aree intervallo, che qui chiamiamo aree stand by, aree in attesa. Comunque sono i lost spaces, gli spazi persi, come vennero definiti nel 1986 da Transic. Questi spazi persi, gli spazi obsolescenti e abbandonati, esito di trasformazioni, di dismissioni, che sono appunto in attesa, in attesa di una trasformazione oppure di una non trasformazione. Sono le aree stand by di cui parlavamo, che rappresentano anche grandi serbatoi di potenzialità per la città e i cittadini. Però affinché questi serbatoi di potenzialità vengano realmente resi operativi, è necessario innanzitutto guardarli, riconoscerli. Proprio per questo il nostro logo è un occhio, un occhio che guarda con uno sguardo diverso alla città. Per contestualizzare un po' la nostra esperienza, due parole sulla città di Viterbo. Viterbo è una città di 60.000 abitanti, a 80 km a nord di Roma, nella Tuscia, ed è una città molto particolare perché ha un centro storico murato medievale meraviglioso che però sta subendo un incrementale processo di abbandono, non tanto dal punto di vista residenziale perché è paradossalmente la parte più abitata della città, però sta subendo un processo di abbandono dal punto di vista economico, di tutte le attività economiche che negli ultimi due anni stanno chiudendo in modo molto rapido. Ha poi nella parte nord una vastissima area industriale, forse anche fuori scala rispetto alle dimensioni della città, in fortissima contrazione. Ieri Claudio parlava della generazione di una grande onda e mi sono ritrovata un po' nelle parole che hai detto, in questa volontà di generare un'onda comune, la costruzione di una operatività collettiva che parta dal basso e lo stand found ha avuto proprio questo come obiettivo e abbiamo pensato che affinché i nostri obiettivi fossero realmente operativi, ficcanti nel territorio, fosse prima necessario però crearlo questo territorio, creare un humus, una base su cui lavorare. Viterbo conta 1013 associazioni culturali, tantissime, e non sono messe in rete l'una con l'altra. I cittadini non sono coinvolti in queste associazioni che sembrano un po' essere fantasma e quindi noi abbiamo pensato che la prima operazione utile fosse appunto creare una rete, creare un coinvolgimento tra associazioni e cittadini, sensibilizzare e coinvolgere quindi. Lo stand found è stata la scorsa primavera una manifestazione che è durata due mesi, maggio e giugno, si è chiamata Spazio in attesa. All'interno di Spazio in attesa, che ha visto l'organizzazione di un workshop, di una pedalata, di diverse conferenze e di una visita guidata, abbiamo realizzato appunto questo workshop che si chiamava Progetto all'abbandono. Il primo passo, la prima esperienza che abbiamo realizzato è stata questa pedalata, che abbiamo intitolato Occhi al pedale. Inaspettatamente hanno partecipato tantissime persone, pensavamo di essere pochi, dato il poco coinvolgimento dei cittadini in questi eventi. Invece siamo stati tanti, è stata una domenica mattina, come scritto qui, alla ricerca di luoghi insoliti, abbandonati e sorprendenti. Sorprendenti sul serio perché paradossalmente abbiamo fatto conoscere dei luoghi del centro storico della città ai cittadini che non conoscevano, che non avevano mai visto. E la pratica del pedalare, del camminare, è stato molto educativo, sempre in termini molto umili. In questo evento abbiamo collaborato con All'improvviso. All'improvviso è un progetto di incursioni narrative musicali negli spazi più insoliti della città di Viterbo, nato appunto anche esso dalla congiuntura di diverse realtà culturali del Viterbese. Il secondo passo è stato quello di organizzare una tavola rotonda legata, basata sui temi dell'abbandono. A questa tavola rotonda abbiamo invitato diverse realtà a confrontarsi appunto su un tema che ci sembrava fondamentale, quello dell'abbandono visto da diversi punti di vista. È per questo che abbiamo invitato Marco Trulli di Cantieri d'Arte, col quale abbiamo riflettuto sul ruolo che assume l'arte pubblica in relazione alle dinamiche dello spazio pubblico, quindi all'importanza che l'arte pubblica ricopre nel momento di riuso e ricostruzione anche di un tessuto sociale spesso mancante. Con Barbara Ruggero della UCS abbiamo parlato del binomio uomo-ambiente in una prospettiva di sviluppo sostenibile, mentre con Matteo Michalella di Orto Surbis e di Zappata Romana, che poi ha collaborato con noi anche nel workshop, abbiamo affrontato il tema della riattivazione degli spazi abbandonati attraverso l'installazione di orti urbani. Con Francesco Tortori invece di spazi indecisi abbiamo affrontato il tema del coinvolgimento dei cittadini, che anche lui ha sentito molto nei primi tempi di spazi indecisi e abbiamo parlato anche della possibilità di crescita di una nuova sensibilità civica, proprio l'obiettivo che ci siamo posti inizialmente. Il nostro workshop progetta l'abbandono è stato organizzato in due giornate, è stato aperto da una conferenza introduttiva e abbiamo cercato con questo workshop di aprire un processo di progettazione condivisa attraverso la riscoperta degli spazi persi e dimenticati della città di Viterbo. Per il workshop abbiamo utilizzato un metodo, il metodo MAPIT, ideato da un gruppo di ricerca dell'Università di Genk del Belgio. MAPIT è uno strumento che permette di analizzare, pianificare e progettare delle azioni passate e future legate ad un contesto spaziale specifico. è un metodo che prevede la suddivisione dei cittadini, in questo caso i nostri partecipanti del workshop, in diversi tavoli di lavoro. Noi abbiamo diviso i nostri partecipanti in tre gruppi, un gruppo legato all'abbandono, un gruppo legato agli interstizi e un gruppo che analizzava in modo più approfondito il tema della dismissione industriale, perché sono stati appunto tre i luoghi che abbiamo deciso di analizzare. La creazione di questa mappa è la trasposizione visuale di una conversazione che è durata un'intera giornata, durante la quale abbiamo condiviso delle idee di trasformazione dei contesti, delle realtà che abbiamo proposto. Abbiamo potuto fissare in modo figurato dei concetti che spesso rimangono su un piano troppo teorico. L'esito di questa giornata di progettazione partecipata è stata chiaramente la proposta di un nuovo assetto spaziale per le tre aree legate a degli eventi temporanei che sono sembrati la soluzione più utile, più contestuale rispetto ai tre luoghi che abbiamo proposto. Abbiamo anche potuto discutere, condividere, ma soprattutto sensibilizzare delle persone che fino a quel momento non si erano soffermati a ragionare su questi temi. Questa è stata solo la prima parte di un lavoro che speriamo vada avanti a lungo. Mi rendo conto che è un lavoro piccolo rispetto a quelli che avete proposto voi, però speriamo di andare avanti serenamente. Grazie Flavia. Giacomo Zaganelli e Sibisco, che ha anche dei fan in sala. Buongiorno a tutti, mi chiamo Giacomo Zaganelli, come si vede qua dietro. Prima di tutto vorrei ringraziare Alessandro e Small per questa occasione interessante che ci permette di andare avanti nella discussione dei temi sull'abbandono. Io non sono architetto, lavoro con approccio multidisciplinare al confine tra arte, architettura e spazio e mi occupo di realizzare interventi pubblici e di lavorare sempre sul tema dello spazio con un atteggiamento curatoriale. Quello che presenteremo oggi, nel 2005 ho fondato Esibisco. Esibisco è un laboratorio collettivo attraverso il quale sviluppo progetti di riappropriazione dello spazio con un atteggiamento partecipativo. Il laboratorio prevede l'inclusione di molte persone che lavorano a questo tipo di progetti. Il primo progetto che presento è un progetto che tratta del tema, più che del riuso, tratta del tema dell'uso di uno spazio che a Firenze è un non luogo, cioè si tratta di una grande piazza che però non svolge la sua funzione reale poiché non è altro che il tetto di un parcheggio sotterraneo costruito ex novo qualche anno fa nel centro storico di Firenze in un quartiere estremamente vitale e popolare e denota quanto poco attenta sia stata la progettazione di questo spazio nonostante appunto le caratteristiche di vitalità e di popolarità del quartiere stesso. Vediamo se qui mi permette di andare avanti, no devo andare qua sotto, questo è un breve video che racconta l'esperienza. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 60 tonnellate di erba posate in una notte da una quarantina di ragazzi più i passanti che entusiasti della diciamo dell'iniziativa hanno voluto aiutarci. un lavoro che voleva in un certo senso proporre... che è sta roba... perché si muove? aspetta eh che io qui... questo si può chiudere se puoi chiudere questo... prendi... seleziona... Ah, si può fare così? No. Se. No, neanche questa, sbagliata. Quale è? 3B, forse. 3B? Se. Ok, perfetto. Allora, con questo va, vai, perfetto. Allora, è un progetto che questo prato temporaneo rimase per un mese sulla piazza, su questo spiazzo. Chiaramente l'usura fece sì che il piano piano, il prato, diciamo, tornò ad essere quasi terra. Però la mia era una visione per far capire con quanto poco si riuscisse a cambiare il paesaggio urbano con un intervento estremamente lieve. La mia era anche una volontà di suggerire la possibilità di, appunto, in un certo senso, agire in maniera spontanea. Allo stesso tempo far capire che effettivamente a volte basta talmente poco per cambiare in maniera enorme le sorte di una piazza o di un luogo. In questo caso si vede nella foto decine e decine di persone che passano la serata là, così come il giorno, come abbiamo visto nel video. Questo è un luogo che durante il suo quotidiano non vede nessuno sopra di esso, se non gente che transita per andare all'uscita del parcheggio o per andare ai vari edifici che stanno ai bordi della piazza stessa. Ho fatto questo progetto, la mia era anche una speranza che questo avesse portato magari a un continuum, ossia forse in maniera un po' ingenua, la speranza che questo avesse portasse, avesse potuto portare a un progetto futuro, magari pensare a una piccola cassa di terra dove seminare, quindi dare qualcosa di meno temporaneo e un pochino più fisso. La cosa non è avvenuta nonostante la grande partecipazione di pubblico, l'amministrazione comunque spesso e volentieri è insensibile. E quindi questo ha fatto sì che avendo l'opportunità io mi sono mosso a Berlino per cambiare aria e osservare come un'altra città si può evolvere. Oddio, la città fiorentina si evolve molto poco, a dir la verità. Per partire a parlare di Berlino ho voluto mettere questa immagine perché Berlino è a tutti gli effetti un cantiere aperto, lo è da anni e anni e lo è tuttora. Questo qui è un parco che stanno costruendo accanto a casa mia, al posto di un grossissimo scalo ferroviario e quello che si nota dall'immagine è che nonostante i lavori siano in corso il parco è vivibile, ossia si vede quell'uomo in bicicletta e si vede sullo sfondo anche il praticello, cioè mezzo parco è pronto, l'altro mezzo ancora lo stanno lavorando e mentre ci sono le ruspe che lavorano la gente può stare all'interno e goderselo. Questo per riflettere su alcuni aspetti con cui parlavamo anche prima con Alessandro, cioè ci sono delle differenze sostanziali tra anche il nostro paese e quello tedesco, soprattutto basandosi anche su, la prima è relativa a un principio di responsabilità, cioè in Germania ognuno è responsabile delle proprie azioni, in Italia no, si tende a scaricare la responsabilità su tutte le azioni altrui e quindi questa è sicuramente una delle cose che ci blocca maggiormente nello sviluppo di qualunque tipo di progetto e o sperimentazione. Il caso interessante di Berlino è sicuramente legato al riutilizzo di spazi e una cosa che mi ha colpito molto perché spesso e volentieri questi spazi sono in condizioni estremamente precarie, cioè sono pericolosi, nel senso si va all'interno di una mostra che per le scale può avere un buco, un buco dove uno ci può finire dentro, ma nonostante ciò la mostra c'è e, ripeto, in relazione a quel discorso che facevamo prima, nessuno si preoccupa troppo. Qui ci sono spazi come vecchi ospedali che vengono convertiti in centri per l'arte, ex aree industriali dove si crea delle piscine o spiagge temporanee, questa è una sauna e piscina pubblica che d'estate è scoperta e d'inverno invece è coperta, ci sono vuoti urbani che vengono trasformati in community garden all'interno del quale ci lavorano più di duemila ragazzini e robe, ci sono aree residuali lungo il fiume, che vengono convertite in club, grandi capannoni in skate park e ci sono anche aeroporti che, vista l'enorme estensione e vista anche la difficoltà di girci sopra, vengono pensati per un utilizzo temporaneo, lasciandoli così come sono. La cosa di Tempeloff è interessante perché, non so se si vede la freccettina, qua c'è un parco gigantesco che si chiama Hasenhaide, che già di per sé è un parco enorme, quindi da un certo punto di vista non c'era neanche bisogno di aggiungere un altro parco, invece qui hanno pensato di dedicare questo luogo proprio in attesa di definirne una sua più specifica funzione e di lasciarlo aperto al pubblico per qualunque tipo di attività, soprattutto legate allo sport e al vento, perché chiaramente immaginate un paesaggio urbano grande 400 ettari, quindi un'area quasi di due chilometri e mezzo per due, dove non ci sono alberi e il vento scorre in maniera pazzesca e quindi tutta la gente con i kite, con vari tipi di attività, è molto stimolante. Questa è una mappa presa lì da una tabella loro, dove proprio in rosso si vedono delle aree destinate a utilizzi sperimentali del luogo, cioè a utilizzi pionieristici dello spazio. Un altro aspetto che mi sembrava interessante portare per parlare di riuso, per parlare di spontaneità e possibilità anche dal basso di attivare uno spazio, è il caso di Cristiania, luogo di cui mi innamorai una decina di anni fa, perché nonostante nell'immaginario collettivo danese fosse un luogo pericoloso e a noi ci fu sconsigliato di andare al padri di un'amica, è un luogo che, ex base militare, nasce nel 1971 come progetto di una sorta città all'interno della città, sono passati circa 40 anni, il governo danese sta cercando di smontarlo in varie maniere, però la cosa curiosa è che lì si dà totale spazio alla possibilità di sperimentare, non a caso case come queste vengono autocostruite dalle persone che possono inserirsi all'interno. Questa qui, come si vede, con porte e finestre, e questa cosa qua è estremamente interessante, perché comunque la società danese è ben lontana da questo tipo di approccio. In relazione a questi tipi di riflessioni, e alla riflessione anche fatta a Berlino per come viene utilizzato lo spazio, ho iniziato a pensare di quantomeno proporre una riflessione anche a Firenze, che è la città da cui provengo, cercando di riflettere sulla mole degli edifici dismessi e sulle funzioni che alcuni di questi avrebbero potuto svolgere. Facendo una ricerca è emerso che per ogni bambino che nasce in Italia ci sono 44 stanze vuote. Questo è un dato abbastanza pesante, anche in relazione al discorso che facevamo ieri sul discorso della casa, è vero utilizzare gli spazi dismessi, ma di case vuote ce ne sono milioni, insomma milioni no, però ce ne sono veramente migliaia e migliaia. Quindi diciamo che quello che è successo, nonostante io vivessi a Berlino, nei miei ritorni a Firenze in Toscana, dedicavo il mio tempo a una sorta di scoperta del territorio in relazione alla memoria di questi luoghi, alla memoria dei luoghi abbandonati. Quindi quello che ora vi mostro in maniera abbastanza breve è una sorta di viaggio in Toscana, una riscoperta della mia terra, appunto in relazione ai luoghi abbandonati, un viaggio temporale della durata di circa mille anni. Cominciamo da esempi di vecchie badie risalenti appunto all'undicesimo secolo che sono abitate principalmente da capre per passare nel Fiorentino alle Gualchiere di Remolo. Le Gualchiere si pensi che nonostante sia un edificio abbandonato è uno dei pochissimi esempi di archeologia preindustriale che ci sono in Europa. Quindi anche da questo punto di vista c'è da fare una riflessione su anche l'aspetto valorizzativo di questi luoghi. in altri territori come la Germania, l'Inghilterra luoghi come questi possono diventare delle chiavi di volta per veicolare un determinato tipo di turismo. Basti pensare all'Arure come caso emblematico. Queste qui sono in provincia di Prato e sono delle cascine che fece costruire Lorenzo il Magnifico per la sua villa di Poggio a Cagliano che denotano anche una certa qualità architettonica. Questo qui è un castello risalente agli Aragona lo fecero costruire agli Aragona è un castello che all'interno è tutto decorato stile Alambra come si può vedere più o meno da queste immagini è abbandonato, è stato privato di tutte le sue protesi a parte dei tasselli che sono rimasti del mosaico è un luogo incredibile e poi vedremo anche accanto cosa gli è stato costruito. Questo qui per esempio è il primo ceramichificio d'Italia cioè anche questo ha un valore abbastanza interessante però nonostante ciò mantiene la sua condizione di abbandono. Questo ora mi sono dimenticato di aggiungere un'immagine è un ospedale psichiatrico nei pressi Volterra all'interno del cortile c'è un murales scavato con la fibbia della cintura da un internato per una ventina d'anni ed è un'opera eccezionale perché lui nella sua, non so se follia definirla comunque ha voluto lasciare una traccia fortissima con scritti, testi e disegni e il problema è che chiaramente l'incuria fa sì che vanno via e vandali si appropriino di pezzi di muro o comunque vada via cadendo. Questo è un edificio, forse l'edificio più prestigioso dal punto di vista archeologia industriale che abbiamo a Firenze perché non c'è quasi niente questa qui era uno dei dinamitifici più grossi d'Italia che era nei pressi di Prato e che fu fatto saltare in aria da un'azione di 5-6 partigiani giovanissimi questo è un altro esempio interessante di uno di questi edifici che per certi aspetti è unico questa è una stazione che fu fatta costruire per Marconi a inizio secolo nella tenuta reale di San Rossore questa stazione era il centro delle comunicazioni più avanzato al mondo in quel tempo e aveva intorno a questa piccola struttura 30 antenne alte 250 metri quindi è anche qualcosa di sorprendente anche oggi e un piccolo dettaglio che può essere divertente fu questo il luogo che ricevette l'SOS del Titanic che stava sprofondando quindi pensai da laggiù e arrivò fino a Pisa questo qui è un altro dinamitificio che invece come più che dinamitificio è un deposito che ha 400 ettari di cunicoli sotterranei di cunicoli, gallerie, strutture tutte sotterranee per il deposito chiaramente tutto nascosto all'interno della colina questo è un bel esempio di archeologia industriale che c'è nei pressi di Prato questa era come una rilettura del territorio marino legato a tutte le colonie quindi alla costruzione delle colonie nel periodo fascista e così come nel periodo fascista tutti i vari sanatori costruiti tra i boschi in Toscana esempi eccellenti anche di architettura legata appunto agli ospedali questo nei pressi di Lucca mentre quest'altro nei pressi di Firenze tutte strutture che oltre alla loro mole e alla qualità architettonica sono ubicati in posizioni estremamente privilegiate perché erano legate alla cura di malattie respiratorie poi parlare di chiaramente manifatture con interventi di nervi insomma queste sono più di 100.000 metri quadri anche queste qua appunto chiaramente sono stati di abbandono questo è un altro esempio del territorio fiorentino di archeologia industriale che ha una caratteristica un po' particolare perché è lungo il fiume e aveva due rotori sotterranei molto grandi che spinti dalle acque alimentavano tutta la corrente elettrica della tranvia vecchia che abbiamo dismesso per poi ricostruirla ora questo è unico in Italia è nel territorio della Val d'Orcia Val d'Orcia è una delle campagne più belle che io abbia visto quantomeno si tratta di una torre di 70 metri ed era un essicatore di pomodori ossia o di alimenti comunque principalmente usato per i pomodori i pomodori venivano gettati dall'alto attraverso una serie di pressioni dell'aria diversa e di vari trattamenti che poi bene non conosco arrivava in fondo che era polverizzato e le polveri venivano usate per l'industria pochi anni dopo la costruzione di questo riuscirono a fare il tutto in 5 metri cubi e questo qui è rimasto obsoleto e rimane come monumento nella Val d'Orcia via via procedendo agli anni 70 dove chiaramente i grandi ecomostri in cemento come questo qua che è una una cantina sociale fatta costruire al ministero dell'ambiente in mezzo al Chianti mantiene tutto il suo scheletro e piano piano verrà recuperato dalla 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 natura così come questo qua che è esattamente a 20 metri di distanza dal castello che abbiamo visto prima infatti questa qui siamo in cima al castello e la pensate voi è rimasta la gruda ormai da 40 anni e fino a grandissimi diciamo invasi o comunque questa grande diga che c'è sempre territorio della Val d'Orcia che per trovarla perché era invisibile nel paesaggio toccava camminare un'ora in mezzo ai campi nel niente e chiaramente tutto questo tipo di progetto di processo è stato sì da una parte un riavvicinamento alla mia terra secondo un altro tipo di lettura ma anche proprio una vera scoperta all'interno del territorio cioè camminando appunto quindi recuperando l'azione del camminare come scoperte e via dicendo questo era il primo centro commerciale di Prato ormai credo sia quasi raso al suolo e questo invece è interessante perché era il centro di smistamento di tutti i 740 del centro Italia fatto costruire negli anni 90 da chiaramente il ministero delle finanze non è mai entrato in funzione se non un giorno solo di lavoro è completamente continuamente presidiato dalla polizia è a tutti gli effetti in uno stato perfetto di condizione ma è inutilizzabile si parla di 30.000 metri quadri è interessante perché voglio dire noi anche nel caso fiorentino abbiamo la fiera che è in centro che comporta una quantità di disagi pazzeschi questo non ha la mole per una fiera però insomma potrebbe per certi aspetti sostituirne una parte ma chiaramente non viene minimamente considerato finendo poi a un ultimo caso del 2000 che è un parcheggio costruito per il giubileo con tutto centro congressi annessi e via dicendo questo per fare un discorso legato a quello che è stato il mio processo di avvicinamento alla tematica anche dell'abbandono questa è l'estensione della mappa e via via avvicinandomi a questo tipo di argomento mi sono accorto che più o meno in maniera contemporanea erano nate in altri luoghi d'Italia simili progetti di mappatura come quasi spinti da una sensazione comune di voler lavorare su questa tematica nel 2010 stesso anche al padiglione olandese della biennale fu dedicato un'intera installazione a tutti quelli che erano gli immobili abbandonati nel territorio olandese quindi diciamo che iniziai a fare una sorta di mappatura italiana includendo le varie mappature fatte da altri gruppi e cercando di iniziare a installare un discorso con essi il primo discorso lo facemmo a Forlì con i ragazzi di Spazi Indecisi dove durante una loro diciamo due giorni inserì un incontro denominato non a caso le mappe dell'abbandono italiane dove noi per la prima volta o comunque una delle prime volte ci si incontrava tutti insieme e si iniziava ognuno a raccontare la propria esperienza qui c'è Marco Svara che racconta per poi finire a un progetto che presentai per un bando pubblico a Firenze che vinse il bando e che prevedeva un quattro giorni di approfondimenti sul tema in maniera interdisciplinare cioè non erano contributi da architetti piuttosto da biologi da letterati dicendo che affrontavano il tema la cosa interessante è che come si vede dal volantino l'evento doveva essere all'interno di questa bella struttura che è stata a lungo tempo abbandonata e la mia intenzione era proprio quella di tra virgolette provare a inserire questa discussione all'interno di un luogo che comunque fosse in un momento di stallo nonostante avessi tutti i permessi del comune nonostante diciamo in realtà il luogo fosse quasi stato restaurato completamente come si avince a quest'immagine a una settimana di distanza dall'evento si sono resi conto che mancava una firma sul collaudo qualcosa di simile e quindi teoricamente mi hanno detto guarda non si può fare e ho detto fortunatamente fortunatamente nel comune ci sono sia questi soggetti che soggetti più illuminati che mi avevano già prenotato un altro spazio perché conoscono e questo qui è sicuramente un diciamo un qualcosa di positivo quindi l'evento fu fatto in un luogo che sono le murate che sono frutto di un progetto grosso di recupero è stato fondamentalmente come dicevo prima questo approfondimento interdisciplinare la cosa piuttosto interessante è che appunto non è stato analizzato l'argomento dagli addetti ai lavori che potrebbe insomma sarebbe stato molto restrittivo ma diciamo gli spunti sono stati vari e soprattutto sono stati interessanti cioè i vari contributi da parte appunto soggetti come biologi che stanno lavorando sul territorio abbandonato della piana fiorentina cercando di riattivare cioè cercando di attivare cercando di costruire una palude un territorio paludoso per il mantenimento di specie indigene via dicendo per gli uccelli e cose varie va bene poi c'è stato un incontro con vari attori anche qui presenti e abbiamo fatto anche un laboratorio abbiamo proiettato una serie di video film sul tema e abbiamo creato un laboratorio anche con Cristian e Fabrizio di Spazi Docili all'interno di quale in molto poco tempo comunque la loro missione era quella di cercare di dare un segno di lasciare un segno all'interno di questa grande struttura che è interessante pensare che fu recuperata negli anni 90 se non mi sbaglio fu ricostruito fu rifatto completamente il tetto le condizioni interne sono anche abbastanza dignitose e poi l'incapacità di valorizzare ciò che si ha fece sì che appunto è tornato di nuovo all'abbandono e qui è interessante vedere come sul tetto tutte le componenti di rame sono state levate appunto da chi si occupa di rubarlo e rivenderlo e quindi questo ha comportato anche uno spreco di denaro ulteriore interessante all'interno di questo è sicuramente quanto appunto un discorso che facevamo anche ieri chi veramente riusa lo spazio o comunque si riappropria lo spazio è la natura cioè con tempi un po' più lunghi lei è il vero soggetto che più di altri si può riappropriare dello spazio in una visione dell'alto quello che per certi aspetti poteva avere un senso era sì nell'incapacità di saper valorizzare ciò che si ha però far magari riaprire lo spazio il giardino e farlo utilizzare dalla gente che vive nei dintorni poiché di aree verdi non esistono la cosa chiaramente non è mai entrata in porto ora c'è un progetto di riutilizzo cioè di 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 vera e propria creazione ex novo del giardino quindi anche lì grandi spese ma vedremo poi l'efficacia quindi riflettendo sul tema diciamo citando il titolo di una ricerca che appunto pone l'attenzione sul fatto di pianificare ciò che non è pianificato comunque tenere in considerazione tutto ciò che prima a livello urbanistico e normativo non si teneva in considerazione questo caso è appunto l'esempio di Berlino comunque di alcuni paesi nordici dove hanno iniziato a imparare a capire a comprendere il valore delle azioni spontanee e dal basso proprio per farne tesoro e per diciamo anche su questo costruire delle delle normative tra virgolette l'ultima cosa che vi mostro è un terreno su cui sto lavorando per un progetto il prossimo anno perché nell'arco di tutto questo processo chiaramente abbiamo sia approvato la strada pubblica per il recupero di un edificio sia la strada privata in entrambi i casi il percorso era abbastanza complicato e anche abbastanza demordente io chiaramente stando a Berlino non avevo neanche tutto il tempo da dedicare e quindi in questo momento ci stiamo dedicando al riutilizzo di un diciamo di un terreno incolto come spazio di sperimentazione questo terreno è un terreno marginale di una Firenze meno conosciuta di una Firenze il cui skyline è caratterizzato da i palazzi dell'inacasa anni 50-60 o da come si vede da queste foto o da strutture costruite ex novo abbastanza simboliche e quindi l'idea è chiaramente di spostare diciamo il punto di vista della città stessa su un luogo meno conosciuto e considerato vedremo se poi realizzeremo questo vi ringrazio per l'attenzione grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti